Rinaldo Nocentini alla partenza da Porto Sant'Elpidio, quest'oggi una tappa molto impegnativa? Sì, una tappa molto impegnativa, soprattutto veniamo ancora da due giorni sulle cammini. Una tappa lunga, non ci ho pensato a nulla, speriamo di avere un grazie bene dagli ultimi due giorni e di essere là davanti per lottare sulla vittoria.